Salve ragazzi, David Asseloff, alias Michael Knight, dalla base Knight Industries è qui per voi. Ora, rimanete sempre seduti al vostro posto durante tutto il tour. In caso di pericolo, schiacciate questo bottone sulla plancia. È il Turbo Boost e servirà a togliervi da qualsiasi impiccio. Parola di Michael Knight, seguite tutte le indicazioni dei nostri piloti del Superjet per la corsa della vostra vita. Io sarò qui per seguirvi per tutta la durata del test dalla nostra base operativa Knight Industries. Preparatevi a un'esperienza unica e come diceva sempre Devon, mi raccomando, fate attenzione. Anche una corsa può fare la differenza. Cosa? Una figata. Io sono la voce del Knight Bollinger, Kit per i miei amici. Benvenuti a porto, mi presento Jake, mio co-pilota per tutta la missione. Kit, vi seguo sui monitor, tenetevi al piano. Esattamente ciò che intendo fare. Kit, andateci piano. Avete ospiti a bordo. Kit, brutta notizia. Garth si dirige verso di voi su un elicottero. Mettetemi in salvo. Arrivaremo dal Knight Bollinger. Mettetemi in salvo. Presa piena, presa piena, però piena piena. E' per forza, non è che... Kit, sei già intratto nella jet house. Tu te lo dici? Sì, sì. Dovreste essere al sicuro. Grazie, Kit. Prem fanno. Maio, sto capitando, vediamo l'appliccatoria. Adesso, non ti sento. Qualche'a mia visionaria struttura per volare non resisterà. Uscire da lì immediatamente. E' una di utilizzare tutte le mie capacità. E' una di utilizzare tutte le mie capacità. Ogni attenzione. Sì, sia. Sì, sia. Sì, sia. Ma da i più... Ma sono comunque in forte, voce. Sì! Sì! No! Guarda, è stato abbattuto, Kit. Tutto bene? Jake, modalità autocruise danneggiata. Torniamo a casa o getti bisogno di una piccola sosta. Kit, ben fatto. I nostri amici sono al sicuro. Che nevo non potessi farcela. Michael, questa non la memorizzo. Niente male, Jake. Per usare un termine umano mi sento euforico con ieri. All Night Industries vi auguro un... Grazie mille! Ciao, 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 ciao!